Sul sito internet del Consiglio regionale è pubblicato un dossier speciale Eurofocus sulla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, per essere stata aperta la firma nella capitale turca in occasione della sessione del Comitato dei Ministri dell'11 maggio 2011.